Io saluto, è un piacere averlo qui nuovamente, Luca Bergamo, vice sindaco di Roma, assessore della cultura, che ci svelerà poi anche quelli che sono i programmi per il fine anno del Comune di Roma. Insomma, diciamo la verità, vice sindaco, dopo la vicenda a Spelacchio, che alla fine è diventata anche divertente, i romani ci sono... È Pasquino. È diventato un altro Pasquino, dove tutti pensieri, provocazioni... Ma diciamo che nel Capodanno c'è bisogno di un po' di riscatto da parte di Roma con iniziative... Non c'è bisogno di riscatto, c'è bisogno di fare un bel Capodanno, ma noi facciamo un bel Capodanno. Bergamo, non faccio una domanda sul merito della questione, ma insomma sul fatto che la politica sempre più spesso, a quanto pare, decida sulla base dei sondaggi, sulla base dell'orientamento dell'opinione pubblica. Questo è un discorso che ad esempio vale anche molto per gli amministratori, soprattutto di una città importante come Roma. Certe decisioni andrebbero prese perché vanno prese, insomma, non per compiacere o non dispiacere una parte dell'opinione pubblica. Io sono assolutamente d'accordo con la necessità di prendere decisioni che non sono calate sul breve, non sono calate sul sentimento, l'emozione del momento, delle opinioni che uscillano e peraltro che sono fortemente influenzate da un dibattito pubblico che è di un livello modestissimo a cui concorrono tutti quanti, chi fa il dibattito pubblico, chi lo commenta, gli strumenti che utilizziamo che semplificano la mancanza di pensiero. Penso che il capacità di approvare una legge sui ussoli di questo Parlamento sia una manifestazione di questa circostanza. Penso anche che chi amministra, adesso parlo per me stesso, noi abbiamo proprio pochi giorni fa preso una decisione, un paio di decisioni del tutto fuori mainstream. Una in particolare è quella di decidere che nei musei civici i cittadini residenti, temporanei e permanenti entrano comprando una tessera annuale al 5 euro, entrano sempre, tutto l'anno, a tutte le mostre ed è una trasformazione del modo in cui noi abbiamo discusso fino adesso della fruizione, non in chiave turistica ma in chiave di emancipazione umana. C'è un bellissimo articolo della dichiarazione universale ai diritti dell'uomo, che è l'articolo 27, che parla del diritto dei cittadini di partecipare alla vita culturale, di godere l'arte e dei benefici del progresso e della scienza, che noi abbiamo trasformato in un'altra versione, l'articolo 9 della Costituzione. Quell'articolo sta lì perché l'idea è che, avendo una vita culturale ricca, ciascuno di noi acquisisce degli strumenti di comprensione del mondo e di relazione con gli altri che sono capaci di farci pensare, di metterci in relazione, di non guardare semplicemente il tempo breve. E quindi esiste una funzione dello Stato, la funzione dello Stato è quella di mettere ciascuno nella condizione di goderne. I cittadini non sempre sono in parità di condizioni. La scelta è una scelta criticata, ovviamente, perché ci sono quelli che dicono ma tu gravi le casse dello Stato perché... Sì, hanno una visione completamente opposta, però appunto al discorso che facciamo è giusto che anche la politica, i amministratori, i governanti, se lo ritengono giusto, prendano una decisione radicale su certi temi. E talvolta lo fai senza considerare l'effetto immediato di consenso, lo devi fare. La politica è anche questa responsabilità di prendere decisioni e orientare comportamenti e punti di vista attraverso decisioni, non semplicemente uniformare decisioni agli orientamenti della maggioranza delle persone nel momento in cui vengono presi. E allo stesso tempo è vero che la democrazia è prodotta dalla maggioranza dell'opinione delle persone, quindi un equilibrio non sempre facissimo da raggiungere. Soprattutto per quanto riguarda gli ussoli, Fabio Martini, dicevamo, il discorso di base è che non c'era una maggioranza per provare questo provvedimento. Bene, Bergamo ha qualche considerazione a fare su quelle accuse, dove erano? Sul giornale, mi pare di capire. Sì, sul giornale. Sui danni del maltempo, no. Direi che non c'è un granché da commentare, onestamente. Eccolo qua. Beh, insomma, che Roma finisca sempre, quando piove molto, finisca sempre sott'acqua. Roma finisce sott'acqua, non finisce sott'acqua da qualche decennio. Sì, da qualche decennio, e devo dire che da qualche decennio si ha una difficoltà vera, è quella di adattare, diciamo, le condutture, il sistema di distribuzione dell'acqua ai livelli di... alla pioggia che abbiamo oggi, che non è più quella, diciamo, più diffusa che c'era tempo fa. Servono investimenti nella città, servono investimenti copiosi che è difficile fare con la presenza di un debito molto pesante. Cioè per intervenire su questo servirebbe tanto tempo? Serve tempo, serve fare investimenti sulle condotte fognarie. non sono cose che si fanno... questi sono fenomeni che noi conosciamo, non conosciamo solo a Roma, perché li abbiamo visti anche in altre parti d'Italia ed Europa, e sono dovuti a quelle che chiamiamo bombe d'acqua, che sono un fenomeno difficilmente gestibile nelle aree urbane, perché le aree urbane hanno sviluppato le proprie reti fognari su volumi di precipitazione che sono diversi da quelli di oggi. A Roma è molto visibile, ma insomma ho visto macchine galleggiare a Firenze, piuttosto che è anche nel nord della Francia. Poi da noi ogni volta, siccome Roma è un elemento simbolico in una campagna politica... Beh, insomma lo sapevate che governare Roma non è come governare con tutto il rispetto un'altra città, non faccio il nome, perché... No, no, non c'è dubbio. Roma si è sotto gli occhi del mondo intero, certo? Eh, infatti... Per questo, anche quando si ha la sfortuna o la sbadataggine di acquistare un albero di Natale, di acquisire un albero di Natale, non... Perché non si coglie lo spirito, non si coglie lo spirito. Ma quello è stato una cosa spiritosa? Cioè, abbiamo creato un nuovo Pasquino, tutti quanti insieme, inconsapevolmente... E toccherà, caro Assessore della Cultura, fare anche un museo di spelacchio, probabilmente. Eh, potrebbe essere... Io ho un'idea più divertente, però la racconterò dopo, quando lo toglieremo da lì. Ah, va bene, d'accordo. Però Bergamo ha dei momenti in cui... Ma insomma, non è poi che sia così necessario pensare... E' più opportuno fare festa, no? Ma si può fare festa anche? Sì, anche pensando, però... Non gettando la testa, diciamo... No, vabbè, però, insomma, fare festa, avere gli spazi anche della città e, diciamo, le iniziative per festeggiare, ad esempio, alla fine dell'anno. Che succederà a Roma? Che succederà? Diciamo, in numeri, 24 ore di festa cittadina, una grande festa popolare, con cento performance e mille artisti, divisa in blocchi. Una prima parte che va nella notte e attende la fine dell'anno al Circo Massimo con un bellissimo spettacolo della Fura del Baos. La Fura del Baos sono quelli che inaugurarono le Olimpiadi di Barcellona con delle macchine incredibili che camminano in mezzo alla folla, un gigantesco prometeo della gente sospesa a 30 metri a terra, 50. Poi questo diventa musica, sempre con dei DJ set, Tosca, fino alle due di notte. Poi finisce questa prima parte qui, ne comincia un'altra che è per i nottamboli, con musica, proiezioni di film, un po' il teatro India, un po' il cinema reale. Alla mattina, alle 7, abbiamo un saluto al sole di Danilo Rea sul Ponte della Scienza. Poi alle 10 c'è un capolanno per i bambini. A noi ci piace l'idea di festeggiare l'anno che è nuovo, non quello che finisce. Quindi alle 10 di mattina comincia al Giardino degli Aranci e alla Biblioteca dei Ragazzi, tutta una mattinata per bambini con giochi, trampolieri. E nel pomeriggio chiudiamo la città, chiudiamo il centro della città, via Petroselli, lungo Tegheri, e dalle 3 del pomeriggio fino alle 10 sera è un enorme palcoscenico di ogni forma d'arte e di spettacolo che si possa immaginare. Da ballerini che danzano in verticale sul Palazzo dell'Anagrafe, all'Opera Camion che fa un'opera ridotta in piazza, c'è veramente di tutto. Qual è l'idea di fondo? L'idea è che si può combattere la paura se si gode insieme, se non ci si schiaccia l'un l'altro, se si vive insieme dentro uno spazio della città. Era un po' l'idea che aveva in fondo Nicolini quando fece la prima estate romana. Riconquistare lo spazio urbano per stare insieme e per starci in modo rilassato, disteso. Naturalmente il dispositivo di sicurezza è imponente perché questo non solo richiede disposizioni del capo della polizia dopo le vicende di Torino, ma ci sono ovviamente tutte le misure che riguardano l'antiterrorismo ed è imponente ed è fatto in modo tale che ciascuno possa stare tranquillo con i bambini per mano, divertendosi e andando in giro. È una proposta, già l'anno scorso l'abbiamo sperimentata, di un capodanno un po' diverso, un po' meno ossessivo, un po' meno compulsivo e un po' più rilassato. L'anno scorso la gente era contenta, la stampa un po' meno. Noi siamo abbastanza fiduciosi che quest'anno anche... Beh no, ma vedo Fabio Martini che annuiva ed era... tu rimarrai a Roma... No, no, sicuramente andrò, anche perché Roma bisogna dire che da questo punto di vista è una tradizione formidabile, ha citato l'assessore Nicolini che è stato uno degli intellettuali più importanti del secondo dopoguerra, ha inventato l'estate romana che poi ha fatto scuola in tutto il mondo. Certo, non c'è dubbio, certo. Ebbene, allora, insomma, è molto interessante il Circo Massimo come primo appuntamento con il spettacolo e poi la festa si irradirà in varie zone della città, ma proseguirà anche nell'arrivo dell'anno nuovo, è molto bella anche questa chiusura del Lungo Tevere, questo spazio riconquistato. Il Tevere è un pezzo della città che è scomparso dalla città quando sono stati fatti gli argini, noi stiamo lavorando per ricostruirlo, come forse sa c'è un progetto di trasformare in una grande spiaggia il pezzo di Tevere sotto Ponte Marconi, stiamo discutendo con la regione una concessione puliennale per fare questa cosa qui e vogliamo riconquistarlo, in realtà uno degli elementi di questo Capodanno ma di altre feste che stiamo facendo in questi anni è quello di recuperare la città come palcoscenico, non costruire grandi macchine che ne nascondono, ma fare della città, della sua bellezza, il luogo in cui si svolge l'arte e il divertimento e questo è bello anche perché uno si libera un po' delle macchine, scoprire i posti che normalmente a piedi non vede più, via Petroselli che è un posto di una bellezza folgorante è proprietario delle macchine, il Lungo Tevere uno non lo vede mai ed è proprietario delle macchine e invece per un po' è proprietario di ciascuno di noi. D'accordo, grazie a Luca Bergamo, l'Icestino di Roma per averci anticipato gli appuntamenti di Capodanno.